Lezione 37 Ascoltate le parole e guardate le immagini. Pesche, pesce, schermo, sci, scala, schiena, scarpa, sciarpa. Adesso ascoltate ancora e ripetete parola per parola. Pesche, pesce, schermo, sci, scala, schiena, scarpa, sciarpa. Ascoltate ancora queste parole. Quando sentite sh e quando? Sk pesche, pesce, schermo, sci, scala, schiena, scarpa, sciarpa. Adesso controllate la soluzione. Pesche, pesce, schermo, sci, scala, schiena, scarpa, sciarpa. Per finire ascoltate un'ultima volta. Guardate le immagini con le parole e la trascrizione fonetica. Fate attenzione ai simboli. e ripetete. Pesche, pesche, pesce, schermo, sci, scala, schiena, scarpa. Jagua, scarpa. Grazie.